Grazie per la visione Grazie per la visione Mentre io vado a sposare la principessa Come vorrei poter andare a quel ballo anch'io Ciao braccio di ferro, sono il tuo padrino Portami di corsa una scatola di spinaci se non puoi arrivare in ritardo al ballo Al ballo o volo? Wow, con questa farò una figura principisca Dove vorresti andare? Non puoi presentarti al ballo con questi stracci? Wow, ti saluto e grazie, grazie tante Ricordati di tornare a casa entro la mezzanotte O ti ritroverai vestito di stracci durante il ballo Eh? È sparito Va a capirci qualcosa La principessa Olivia Mi permetta, graziosa principessa Oh, tante grazie Tanto per vedere se mi do una puma Messer Cederezzolo Messer Cederezzolo Oh, ma scerì Ti è pronto di venire con me alla caspa? Sloggia, nannerottolo Sono arrivato prima io E questo che vuol dire? Fermi, ragazzi Chi di voi due Nella gara con l'arco più centri avrà colpito Avrà in premio l'onore di essere nominato mio legittimo marito Ok, pupa Puoi considerarti fin d'ora mia moglie Fantastico tiro Modesta prestazione da principiante Osserva il mio tiro e allibisci Fantastico, hai fatto centro Ti sfido a duello con le pistole Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sette, quattro, nove Cucu, è mezzanotte, tutto è male Sei lontano da me, non usare toccarmi, brutto Bene diresti di dare un bacio al tuo futuro marito, principessa Non voglio sposare questo mostro, qualcuno mi aiuti, aiuto Ora solo il tuo padrone sovravo e desidero che mi dia un bacio Enviva! Grazie a tutti. Musica 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 un penning glielo renderò venerdì glielo posso assicurare ma certo prego grazie mille ho finalmente il traslocatore ciao bellezza è qui il trasloto si l'aspettavo con ansia oh ma com'è forte che uomo meraviglioso ci vogliamo sbrigare con questo trasloco santo cielo è davvero geniale no no non c'era niente da mangiare ora venga con me se vuol vedere qualcosa di bello un grande spettacolo solo per un penning ho dimenticato il portafogli le sarei riconosciente se mi potesse prestare un penny glielo renderò venerdì glielo posso assicurare ah davvero ma sicuramente no se proprio il fondo si tratta solo di un penny no ma guarda quante aria si dà quel meglio il gusto ora gli farò vedere io gli farò vedere come si dà buono ah bene cominciamo dalle cose di pesanti meglio liberarsene subito ecco qua fatto e voilà vi è piaciuto? per di me spesso non è vero? ok venga con me forse non l'hai piaciuto ma che maniera lei consiglia di guardare questo questo è uno dei migliori volentieri devo fare attenzione alla sensazione che questi due vi vogliano imbrogliare provo a prendere questo ehi ma cos'era una palla o una pallottola? eh? 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 aspetta le cose ora ti farò vedere un lancio che ha dall'incredibile! no eh eh ma dove va? cosa fa? ma come l'avrò fatto? eh 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 e adesso stai molto attento ehi ma cosa fai razza di farla cretina? vieni qua! vieni qua! tu? no no neanche qui c'era da mangiare non credo che le renderà i suoi soldi mi spiace ma che sta dicendo questa è una delle mie avventure più belle come può non esserle piaciuta? non mi è piaciuta perché è vero del tutto il sapore si ora si divertirà di una sicura che? eh? questa è un'avventura davvero con i fiocchi ah ecco preferito Grazie. Molto bene, adesso tu prova a prendere questa. Strike! Strike! Riprova! Oh no! Un fuoricampo! No, 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 no! Ecco qua. Presa! Grazie, gente, grazie, grazie. Smentiamola di rubarci il cliente. Che c'è, vuoi litigare a me? Ma no, va tutto bene. Stringiamoci la mano. Oh, questa non me la sventavo. Ma certo, in fondo perché non dovremmo essere buoni amici? Siamo colleghi di lavoro, no? E allora... Ah, poi la guerra, eh? Bene, guerra sia! Prego, signori, entrate a vedere il combattimento del secolo, abbracciato perlo contro bruto. Affrettatevi da contro che ho cominciato Entrate gente, entrate tutti Nel combattimento del secolo Entrate signori, entrate